Sabato 6 febbraio si è tenuto un incontro all'interno dell'itinerario formativo spirituale alla luce della Laudato Si, dove abiti. Carmine Trecroci, professore di Economia dell'Università degli Studi di Brescia, ha affrontato l'argomento persone e territorio, legami da custodire, la situazione nel Bresciano. Abbiamo un presente e un futuro prossimo che ruotano intorno a varie questioni importanti, di criticità globali, come per esempio le tensioni sociali che originano dalle tante diseguaglianze tra Stati. La consapevolezza della gravità di alcuni problemi è ormai diffusa. Meno diffusa è invece la percezione dell'importanza di assumere delle decisioni e svolgere azioni concrete che possano risolvere in maniera rapida almeno alcune urgenze. Cosa significa tutto questo? Che in pratica nelle nostre attività di produzione e di consumo non sosteniamo sempre, probabilmente non lo sosteniamo mai, il reale costo dell'impiego delle risorse naturali e ambientali, bensì ne sosteniamo solo una parte. E quindi tendiamo a condurre, ad applicare un uso eccessivo, quindi un abuso di queste risorse e dei beni comuni che l'attività di produzione e di consumo impiega. Nel presente e nel futuro prossimo ci dovremo occupare di diverse criticità globali, come le tensioni sociali che hanno origine nelle diseguaglianze, i cambiamenti nel mercato del lavoro, i rischi legati all'ecosistema e alla salute, derivanti da un abuso delle risorse naturali che portano al surriscaldamento globale.